E' deceduto all'ospedale parigino di Val de Grasse all'età di 64 anni il presidente della Guinea Bissau, Malambakai Sagnat. Il capo di Stato africano era in coma da diversi giorni ed era ricoverato in una struttura militare. Ora per l'ex colonia portoghese dell'Africa occidentale si apre un nuovo periodo di instabilità. Eletto nel 2009, Malambakai Sagnat negli ultimi tempi si era recato a più ripresa Dakar a Parigi per sottoporse delle cure. Ma le autorità guineane, malgrado le richieste dell'opposizione, si sono sempre rifiutate di fornire informazioni sulla malattia del presidente.